Volevo dire due cose. Innanzitutto sul braccialetto elettronico, che adesso tutti cadono dalle nuvole, ma mi risulta che sono più di dieci anni che la Convenzione viene rinnovata e quindi è stata rinnovata da tutti i governi centrodestra, centrosinistra, che hanno dato alla Telecom questi centodieci milioni di euro, cioè più di duecento miliardi di vecchie lire, per non fare niente. Io non so se ci sono di mezzo delle tangenti, ma per quattordici braccialetti e poi uno che se l'era messo gliel'ha restituito perché suonava in continuazione e non riusciva a dormire. Allora, adesso ve la prendete con... Anch'io l'ho attaccato il governo Severino su questa storia dei braccialetti, ma voi quando stavate al governo che cosa avete fatto con la Telecom? L'avete rinnovata o no la Convenzione? Grazie.